E' cominciato da 30 secondi d'incontro tra Virtus Castelfrentano e Valle Aventino. La formazione che è scesa in campo, numero 1 Matteo Francesco Dottario, numero 2 Lorenzo Cuniberti, numero 3 Federico Tucci, numero 4 Guido Colaizzi, numero 5 Gabriele Donoso che è anche il vicecapitano, numero 6 Cristian Nasuti, numero 7 Giallonardo Emanuele Dettolele, numero 8 Nicola Perrucci, numero 9 Gianluca Malbone, numero 10 Michele Daniello Il Messi, numero 11 Teidi Mata, in panchino non c'è il dodicesimo, numero 13 Enrico Caporale, numero 14 Luca Rulli, numero 15 Alessio Ciroli, numero 16 Emanuele Caporale, numero 17 Nicolò D'Angelo, numero 18 Karan Singh, numero 19 Ferretti Filippo. L'arbitro è il signor Coppo della Sessionale, traversa, traversa dei nostri ragazzi, il mister di Felice Gabriele, l'addetto all'arbitro è Nicola Di Campli, il dirigente accompagnatore è il sottoscritto Carlo Iocco, il massaggiatore Francesco Mancini. Buon divertimento!